Gemma Galgani sta prendendo in giro Maria De Filippi? La dichiarazione di Tina Cipollari, secondo cui la dama torinese frequenterebbe un misterioso torinese, se fosse vera sarebbe un vero colpo di scena. . Cancelletto Gemma Galgani sta prendendo in giro Maria De Filippi? Se l'accusa rivolta a Gemma, dama storica del trono over di uomini e donne, si dimostrasse veritiera la dama avrebbe preso clamorosamente in giro Maria De Filippi e tutta la redazione del programma. . Ecco i fatti, Tina Cipollari durante l'ennesima lite con la dama torinese ha dichiarato che Gemma starebbe frequentando un uomo al di fuori del programma. La segnalazione sarebbe giunta da tre telespettatori del dating show. . L'uomo segreto, secondo le parole della vamp, abiterebbe a Torino, stessa città in cui risiede la dama over e avrebbe circa una settantina d'anni, sarebbe stato avvistato con Gemma Galgani in diverse occasioni. . La conduttrice di uomini e donne inizialmente non ha creduto all'affermazione dell'opinionista pensando si trattasse di una boutade di Tina per creare motivo di discussione. Tina però ha affermato di avere a disposizione delle prove che presto renderà pubbliche. . . Secondo Tina Cipollari, Gemma sarebbe stata fotografata con un uomo dai capelli bianchi. Tina Cipollari ha stupito i telespettatori affermando che Gemma Galgani starebbe frequentando un uomo di Torino con i capelli bianchi. . I tre segnalatori dello scoop avrebbero dichiarato che la dama uscirebbe da casa incappucciata per paura di essere riconosciuta e fotografata. Evidentemente se così fesse, Gemma si nasconderebbe per protrarre più a lungo possibile la sua permanenza all'interno del programma Mediaset. . . Certo è che la signora Galgani grazie alla sua lunga presenza a uomini e donne, è diventata un personaggio pubblico molto paparazzato. . La dama, oltre a frequentare il programma di Maria De Filippi, spesso è ospite in altre trasmissioni, perdere questa notorietà sarebbe per la dama un duro colpo. . Tina Cipollari, molto convinta, ha affermato di essere in possesso di alcune immagini di Gemma in compagnia dell'uomo del mistero. La notizia ha incuriosito il pubblico. Presto sapremo se Tina manterrà la parola e renderà pubbliche le fotografie. . Come ha reagito Gemma di fronte a queste dichiarazioni? La dama ha negato di avere una storia al di fuori dello studio chiedendo a Tina di mostrarle presto anche a lei. . Noi ci auguriamo che Gemma Galgani possa trovare l'amore che tanto cerca, fuori o dentro al programma. La piemontese potrebbe essere uscita con un amico o un collega, e a meno che l'atteggiamento tra Gemma e il suo accompagnatore non si riveli intimo, è difficile stabilire se abbia intrapreso una relazione sentimentale. . Certo se così fesse Maria De Filippi potrebbe intervenire duramente contro la dama torinese eliminandola dal programma. Il pubblico amante dello show aspetta trepidante le news. .